Arrivano nuove indiscrezioni sul progetto presentato dalla società Maltauro e giunto alla sua seconda stesura in merito alla realizzazione del nuovo ospedale di Chieti. Dettagli che il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, contesta un ad uno con motivazioni che spaziano dal rischio precariato per i lavoratori attuali allo sperpero di denaro senza giusta causa con la realizzazione di un centro commerciale al suo interno con 26 attività commerciali e poi l'aumento di parcheggi gratuiti per i dipendenti e non per le categorie deboli oltre ad un aumento per posti a pagamento che passerebbero da 151 a 488. Nessuna modifica per i posti letto invece che resteranno 437 più i 61 di Deia Hospital. Invariato anche il numero delle unità operative complesse, quelle che per intendersi farebbero guadagnare l'ambito, secondo livello, all'intera struttura. Insomma, spiega Febbo, l'ennesima dimostrazione di una cattiva pianificazione della sanità in Abruzzo. Uno dei motivi per cui contestiamo il progetto di finanza è intanto perché solo una piccola parte, un quarto dell'intero mosocomio è soggetto a questo problema del cemento imboverito perché si deve rifare tutto e non intervenire su quella parte. L'altro problema è l'affidamento per 30 anni di tutti i servizi a questo progetto di finanza che sta a significare che man mano che scadranno i contratti ci sarà personale che andrà a casa. Demoliamo e andiamo a realizzare una specie di centro commerciale, non l'abbiamo capito, ma vengono nominate 26 attività commerciali all'interno di questa struttura di cui una ristorazione di 750 metri, come se si dovessero fare anche ricevimenti nunziali. 200 milioni di euro per la realizzazione di un manufatto che secondo il consigliere regionale potrebbero invece essere risparmiati utilizzando due nosocomio ormai inutilizzati a Chieti e gestire la necessità di interventi per i presidi di Vasto e Lanciano. Credo che veramente è un progetto che non hai piedi per camminare, che rigettiamo, soprattutto insistiamo perché si sfruttino gli altri due monumenti che abbiamo a Chieti vuoti oramai che il San Camillo dell'Ellis è l'ex Santissimo annunziato e soprattutto che in provincia di Chieti si intervenga per i due ospedali di Vasto e di Lanciano che veramente sono in condizioni pietose.